Dopo le segnalazioni fatte da cittadini e commercianti e dall'associazione Teramo Città Solidale si è svolto il sopralluogo presso gli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ater a Colle Atterrato, che dopo essere state sgomberate a causa dei danni legati al sisma, vivono in uno stato di degrado. La Presidente dell'Ater, Maria Ceci, si è presentata qui, presso le palazzine di Colle Atterrato, in uno specifico di via Giovanni XXIII e di via Don Primo Mazzolari, vicino a Piazza Rescion Lezion, proprio per controllare un po' la situazione insieme all'architetto partiti e praticamente siamo venuti a vedere proprio lo stato, anche un po' di degrado che vive questa zona, perché appunto dei cittadini della zona e anche dei commercianti di via Giovanni XXIII stessa, ma anche di Piazza Rescion Lezion, si sono lamentati sia appunto del degrado, come potete vedere, di immobili lasciati qui, di spazzatura, rifiuti in generale, e sia anche di problemi di ratti più giù a Colle Atterrato Basso, che ovviamente rischiano di andare a ledere un po' l'incolumità dei cittadini e comunque anche l'igiene urbana. Sulla base delle criticità riscontrate si sono programmati interventi in primis per la rimozione dei rifiuti abbandonati e delle idonee chiusure delle vie di accesso agli immobili. Si è deciso praticamente di ripulire dai rifiuti lasciati tutti questi siti e di chiudere le vie di accesso, anche perché a Colle Atterrato Basso c'è anche il problema delle recinzioni che sono state divelte. Quindi praticamente verranno ricostituite e in più si dovrà anche fare un intervento di derattizzazione insieme al Comune, che è stato deciso ieri sempre nella stessa sede, c'è stato anche un incontro con il sindaco d'Alberto e l'assessore Maranella e praticamente si è deciso appunto di fare questa derattizzazione e eventualmente anche un intervento di manutenzione del verde delle aree.